Questi consulenti dei tribunali, questi assistenti sociali che continuano a generare querele, prima o poi incapperanno, ne sono certo, nel giudice serio e onesto a cui dovranno spiegare il motivo per cui hanno falsificato la realtà e hanno procurato tante sofferenze inaudite a bambini strappati, a papà e a mamme che hanno subito terrificanti ingiustizie e che non riescono neanche più a vedere i loro figli sbarrati in qualche lontana e lurida casa famiglia.